La CISL di Cosenza per la seconda volta ritorna alle Terme Luigiane per la festa del 1 maggio Lavoro e la Pace. È il titolo dell'iniziativa che la CISL ha organizzato per il 1 maggio presso lo stabilimento Terme 9 di Guardia Piemontese per tenere alta l'attenzione sul futuro della struttura. In queste ore si sta apprezzando l'ultimo lavoro del Presidente della Legione Roberto Chiuto che sta facendo per il futuro compendio e per la riapertura nell'imminente stagione 2022 degli impianti termali chiusi da due anni per scelte scellerate della politica locale di quella regionale che hanno prodotto conseguenze sul villaggio Termale gestito da Sateca sulle presenze alberghiere e sulle prestazioni sanitarie erogate ai tanti anziani e bambini che si recavano presso lo stabilimento Termale per usufruire delle cure sanitarie scelte che hanno prodotto conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali con 250 lavoratori ai quali è stato negato il diritto al lavoro con altre tante famiglie alle quali è venuta a mancare la loro fonte di reddito. Sono queste le ragioni per la quale la CISL di Cosenza dichiara e chiede al massimo organismo politico ed amministrativo della regione che è indispensabile fare presto garantendo la riapertura in tempi celeri per garantire lavoro indotto e servizio di cura. A tutto ciò si aggiunge che il primo maggio festa del lavoro si gemella con una forte ed intensa manifestazione a sostegno della pace segnata dalla guerra in Ucraina che sta mietendo vittime innocenti portando a distruzione sofferenze e lutti. Per sostenere concretamente il popolo ucraino i tanti profughi fuggiti dai bombardamenti la CISL si puntualizza nel documento ha da settimane avviato iniziative di raccolta fondi e di raccolta di beni di prima necessità. All'interno di queste iniziative la CISL per l'occasione organizza una raccolta di beni alimentari non indumenti da dare alla parrocchia di Guardia Piemontese per la distribuzione alle comunità ucraine fuggite dalla guerra.